Divertirsi nella sicurezza sulle piste da sci significa anche e soprattutto rispettare alcune regole. Vediamo servizio. Al via la campagna di prevenzione e sicurezza della provincia di Bolsano in questo inverno già baciato dalla neve che cade copiosa sulle cime altoatesine. Rischio? Gefährlich? Il titolo parla da sé perché un comportamento corretto sulle piste è oggi una delle priorità per garantire anche il giusto divertimento a tutti gli appassionati di sport invernali. L'impegno nostro è di sensibilizzare, naturalmente impegniamo anche dei fondi, abbiamo i partner molto forti e anche dei partner che sono praticanti dello sport invernale, i maestri di sci, le scuole di sci, l'Alpenverein, il soccorso alpino, le scuole, certe associazioni fuori che già negli anni passati curavano questo modo di sensibilizzazione. E adesso noi cerchiamo invece di regolamentare, di sensibilizzare perché ci troviamo in uno sport nel tempo libero e deve essere anche la libertà di muoversi senza avere il rischio di essere fuori legge con ogni passo che si fa. Per quello stiamo andando avanti sulla sensibilizzazione e sulla esercitazione della libertà e del movimento in libertà. E anche se gli incidenti sulle piste da sci negli ultimi anni sono diminuiti, non è certo il caso di abbassare la guardia. L'obbligo del casco e una preparazione adeguata delle piste, oltre che anni di campagne educative nelle scuole hanno fatto la loro parte. Il resto dipende ora dal buonsenso collettivo ed individuale. E a questo riguardo l'assessore Berger ha auspicato che il tema delle regole comportamentali FIS possano a breve essere previste fra le materie di insegnamento di libera scelta. In Alto Adige sono ogni anno oltre 2 milioni i turisti invernali e solo nei comprensori del Dolomiti Superschi si registrano oltre 150 milioni di passaggi. Sensibilizzare è più importante che regolamentare dunque, ma senza mai scordare l'importanza della responsabilità, anche penale, del proprio comportamento sulle piste da sci.